Guardate, io pensavo che il Signore è generoso, è generoso perché ci insegna che nell'amore si parte da un andare incontro. È il giorno vostro dove il tempo non si misura in secondi, si misura in atti d'amore. E allora io vi dico, dalle cose della vita non fatevi rubare mai la serenità, non fatevi mai rubare quella capacità di godere delle cose belle che avete nel cuore. Io ho bisogno di te nella mia vita, altrimenti non ti avrei cercato. Io mi fido di te perché so che tu sei il mio sostegno, tu sei la parte che mi mancava. Tommaso era la tua parte mancante, Maria Grazia. Maria Grazia era la parte mancante di Tommaso. Ecco perché oggi siete qui. Un amore che brucia senza consumarsi. Allora tu Tommaso da oggi cerca sempre un modo diverso, per amare Maria Grazia. Maria Grazia, tu da oggi cerca sempre un modo diverso per amare Tommaso e far crescere la vostra unione. Tommaso, sto arrivando! E quante te vorrei dire! Perché l'amore parte dalle cose semplici che diventano roccia sulla quale costruire la bellezza di questo giorno. Io, Tommaso, accolgo te, Maria Grazia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Maria Grazia, accolgo te, Tommaso, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Tommaso e Maria Grazia sono marito e moglie per tutta la vita. Applausi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti